Il mio counter di civiltà dice meno 5, tra cui mancano gli indiani, voilà! Nulla da dire ragazzi, se siete qui ormai su eSport stiamo riuscendo a fare quello che nessuno in Italia è riuscito a fare! Portarvi tutte le civiltà di Age, completi di diagramme delle tecnologie e anche qualche tips per riuscire a vincere, diciamo, utilizzando al meglio, non al 100%, ma diciamo al meglio, tutto quello che la civiltà ha da offrirci. Quindi, indubbiamente ragazzi, anche gli indiani non vorrei essere, ma era proprio una di quelle cose che ci mancava. È un'altra civiltà che ho già avuto modo, in qualche modo, di scontrarmi in alcune mie partite e so benissimo. Indiani uguale elefanti, solo che al posto dei persiani che hanno gli elefanti da guerra, questi hanno gli elefanti, scusate, gli arcieri su elefanti. Come vedete, diamo subito un'occhiata ragazzi, subito di botta a questo enorme pachiderma, e diciamolo, non è così forte come ci aspettavamo, ed ecco perché essenzialmente molti di noi credo che lo snobbino gli indiani. Ma gli indiani sono solamente elefanti, cammelli imperiali, guardatelo che bello ragazzi, potentissimo, ussari e un bel po' di, diciamo, unità o col tiro con l'arco, nonché di sparo, perché ragazzi i cannonieri, lo sappiamo, ce li hanno un po' in pochini, non sono solo questo. Allora, andiamo a leggere un attimino, tutti insieme appassionatamente, come al solito, e vediamo subito un bonus di cui io nero completamente allo scuro. Allora ragazzi, costo degli abitanti, nell'alto medioevo, meno 10%, amici, 45%. Poi andiamo verso l'età feudale, meno 15%, dopodiché età dei castelli, meno 20%, e qui ragazzi il calcolo è relativamente facile, perché si scende subito a 40%. Mentre per quanto riguarda l'età imperiale, meno 25%, amici, potrebbe dar vita a delle macro, a quei risparmi, a un risparmio non indifferente. Partiamo subito dal presupposto che essenzialmente meno 10% nella prima epoca, vuol dire già pagarlo 45%, non è tanto, non è troppo poco, ma ragazzi, parliamoci chiaro, nella prima epoca, voi iniziate, passerete di epoca, appunto, con 20 abitanti, 24 abitanti del villaggio circa, di cui 20 andrete sicuramente a crearli voi, ok? Adesso facciamo 50 per 10 fa 500, per 2 fa 1000. Effettivamente, ragazzi, andiamo a spendere 1000 di cibo per creare la nostra macro iniziale. Anche solamente con questo piccolo bonus, ragazzi, iniziamo a risparmiare tante belle risorse, che sicuramente ci danno una mano velocemente a passare di epoca. Ad esempio la prima, ragazzi, lo sappiamo, possiamo passare a 500. Questo ci dà un piccolo, ma importante, bonus, che possiamo usufruire praticamente sempre. Ottimo, quindi dal punto di vista economico, ragazzi, già molto buoni. Piscatori, velocità di lavoro più 10%. Ebbene, i nostri abitanti del villaggio, anche se non ve l'ho mai fatto vedere, ragazzi, possono pescare da tutto ciò che è vicino alla costa, più 10%, direi che è tanta bella roba. Attenzione, ragazzi, se dovete puntare a qualcosa sulla scuderia, vedete, tutta la zona del cavaliere è stata completamente tolta, ma ci viene dato il cammeliere. E, essenzialmente, il cammello rispetto a un cavallo, ragazzi, lo vedete, è leggermente più cheap. L'unica sfiga che hai è che ha un po' meno di attacco, vedete, 6 a confronto di 10, e non ha neanche armatura, ma grazie al bonus degli indiani, la corazza per le armi da lancio, quindi di difesa da armi da lancio, è già di base, più uno. Ottimale, incredibile. Ragazzi, vi ricordo sempre che a questi bonus dovete aggiungerci questi qua, va bene? Quelli del fabbro. Vediamo quelli del fabbro. E, effettivamente, ragazzi, ce li hanno quasi tutto. Molto importante per la cavalleria in generale. Vediamo nell'università che c'è la chimica, c'è la balista, appunto perché sappiamo che la balista, balistica, scusate, è molto importante per il movimento degli arcieri e di tutte le unità col tiro, con l'arco, tra cui vi voglio ricordare il fantastico arciere su elefante. Come avete visto, sono sempre i nostri fantastici elefanti. Nel canale, proprio pochi giorni fa, ragazzi, anche se voi vedrete questo video molto, molto dopo, essenzialmente ho appena fatto vedere come si possono contrastare efficacemente e vi devo dire la verità. Gli elefanti a corpo a corpo si possono contrastare facile con alcune strategie che vi ho elencato. Gli arcieri su elefanti, invece, colpiscono da distante. Un 4 digitate, ragazzi, ma sapete che può arrivare fino a 7. e allo stesso tempo, ragazzi, non si tratta di un attacco piccolo e sono molto resistenti. Insomma, sono comunque un'unità da osservare con molta attenzione. Meno propensa all'attacco corpo a corpo, ma allo stesso tempo possono dare un enorme supporto e a reggere davvero tanti colpi contro un attacco e quindi, in qualche modo, poter infliggere anche danni da dietro una barriera, dove sicuramente danno il loro meglio. Abbiamo il bonus di squadra. Unità dai camaglieri più 5 in attacco contro costruzioni. Non è male, non è poco bene. Essenzialmente, ragazzi, come sempre sulle costruzioni, evitiamo di affidarci alla scuderia, alla fanteria o ai tiri con l'arco, puntiamo al laboratorio d'assedio. Ma con questo bonus, ragazzi, subito di botta, capite che tra... con i camaglieri, ok, che sicuramente è una truppa importante, molto importante per i nostri amici indiani, riuscirete a buttare giù una costruzione in man che non si dica. Ottimo, ottimo, ottimo. Guardate che c'hanno anche la bombarda. E per ultimo, ma non per importanza, ragazzi, oh, vediamo qua un attimino. Il porto hanno praticamente tutto. Ragazzi, hanno tutto. Il galeone, il galeone armato elite, quindi possono sparare da lontano, hanno le mura fortificate, hanno la torre della guardia. Ma abbiamo poi le tecnologie. Le tecnologie, come il sultani, tutte le entrate d'oro sono più 10% rapide. Ottimale. E con tutte, ragazzi, immagino che si tratti anche di economia, immagino che si tratti anche di reliquie, immagino che si tratti anche di velocità di estrazione per i nostri abitanti del villaggio. Ultimo, ma non ultimo, ragazzi, abbiamo lo Chattagni. E' gittato più uno dei cannonieri, che come sappiamo sono molto forti, ma deficitano un attimino per quanto riguarda il corpo a corpo. Quindi, dagli più gittata, dare la possibilità che possono attaccare prima, è sicuramente una cosa buona e giusta. Sto guardando un attimino, ragazzi, le tecnologie generali. Vedete che c'è la carriola, la guardia cittadina, la ronda cittadina, il carretto a mano, tutte le asce a bipenne, fino ad arrivare alla sega. Da taglio, dal punto di vista del mercato, c'è praticamente tutto. E anche dal punto di vista del monastero, ragazzi, a parte la capacità di poter convertire un monaco nemico, e anche l'eresia, ragazzi, che è una tecnologia che io non auguro di dare a nessuno, ok? Non è buona, non è utile, perché, ragazzi, convertire un monaco missionario... Sì, scusate, le unità convertite ad un monaco missionario muoiono invece di passare... muoiono invece di passare nelle nostre linee nemiche. Secondo me è una tecnologia assolutissimamente, totalmente inutile. E, ragazzi, mi stavo incartando. Per tutto il resto, ragazzi, è una civiltà nella norma. Capisco, per via di questi arcieri su elefanti, ragazzi, che non sono molto potenti, ma sono datati di grande, diciamo, grande forza, ok? Capisco che non sono molto usate, ma sono molto curioso di vedere cosa riesce a fare un bel gruppo di cammellieri. E voglio proprio puntare su fare un bel gruppo di cammelli e riuscire a bilanciarli, dargli un buon supporto con un bel po' di area di tiro con l'arco. E senza ombra di dubbio, ragazzi, è la strategia migliore. Se poi vogliamo metterci anche un po' di fanteria, vediamo che fino al campione e alla bardiere ci siamo, io dico che possiamo fare grandi cose mischiando un attimino queste tre truppe. Andiamo un attimino a vedere cosa riesco a combinare. Ho trovato, ragazzi, il bonus dei 5, dei 45, dai, diciamo, del bonus del 10%, di questi indiani molto interessanti. Nulla da dire, ti permette davvero di poter risparmiare quel chiquitin di roba per, appunto, cercare di passare di epoca più velocemente possibile. Abbiamo cliccato praticamente il tasto al nono minuto e un quarto. Come vedete, ho cercato di maxare al 100% gli abitanti del villaggio. Cioè, ne ho portati praticamente, ne ho creati praticamente 24, giusto per cercare di portarmi avanti il più possibile con l'economia. E, indubbiamente, il risultato c'è stato. Per cui, buone cose. E adesso vediamo di riuscire a portare un po' di caos e sterminio nella parte nemica. Ah, ragazzi, mi dispiace, porca miseria. Volevo, non ho neanche commentato il finale della partita perché non mi sono accorto essenzialmente che tenendoli un attimino a distanza, vedete, avevo un bel po' di gente, questo e quell'altro, poi ho iniziato a incalzarli con camellieri, picchieri, un bel po' di roba. Guardate, ragazzi, una macro da 52 che stava andando avanti e stava continuando a macinare davvero tanta roba. Giuro, non li ho neanche attaccati in medio, ragazzi, essenzialmente cadono come mosche. Volevo anche portare qualche piccolo elefante. Mi dispiace davvero tanto, ma essenzialmente anche qui vi ho dato prova di come, sebbene questa civiltà non spicchi in tante cose, ma essenzialmente spicchi quanto in velocità, gestione, e raccolta delle risorse, o per meglio dire, la crescita della macro, ragazzi, che adesso, come vedete, dal costo degli abitanti era diminuito fino a 40 e indubbiamente questo ha aiutato davvero tanto a recuperare una montagna di risorse. Andiamo a vedere quante statistiche per piacere. Eccole qua, ragazzi. Guardate, abbiamo fatto il macello, abbiamo fatto il dismacello, e abbiamo fatto davvero qualsiasi cosa. Ancora una volta, amici, tanto, tanto esercito perché avevamo tante risorse, perché siamo riusciti a gestirle al meglio, perché, sebbene, amici, bisogna stare attenti con i cammelli perché, come sapete, sono molto deboli con le picche, indubbiamente la strategia mixare le unità, a tenersi un po' e un po' e cercare di castarli, gestirli come meglio possiamo, indubbiamente aiuta davvero tantissimo. Che dire, è stata una partita che non mi aspettavo finisse così, mi dispiace un po' per non averveli raccontati al 100%, ma indubbiamente, come avete visto, le soluzioni sono sempre quelle. Solo bisognava capire come utilizzarle. Mi dispiace non aver potuto utilizzare gli elefanti, ma, come vi ho già spiegato, sono bestie enormi, grandi, mastodonti, che non le avrei probabilmente utilizzate in una partita vera e propria al di fuori di... sì, diciamo, di una partita che se non fosse proprio amichevole, quindi nella competitiva non hanno questa loro grande utilità, quanto è vero che però hanno a disposizione tanta fanteria, tantissimi arcieri e anche una cavalleria che arriva fino all'ussero, fino al cameliere corazzato, che indubbiamente aiuta, spinge e va davvero tanto forte. Insomma, gli indiani, una civiltà che non è fantastica, ma non è neanche così brutta. Nelle partite amichevoli, quindi è molto consigliata. Spero che, come sempre, il video vi sia piaciuto, vi sia... vi abbia intrattenuto e noi ci vediamo, ma inizio ad impapinarmi, devo bere un po' di acqua, e noi ci vediamo in un prossimo megavideo. Sempre qui su Age of Empires e viva eSport Itapation. Oh, mi raccomando, iscrivetevi e anche cliccate la campanella. Ciao!